Online il bando regionale per i lavoratori in difficoltà a causa della pandemia. La regione Sardegna ha stanziato 7.000 euro per compensare i mancati guadagni nel periodo delle restrizioni da Covid. I fondi sono destinati ai lavoratori autonomi con o senza partita IVA, agenti di commercio, artisti, professionisti dei settori tecnici, gestori di palestre, cinema e discoteche, ma anche commercianti, agenti di viaggio, ambulanti e tutte quelle categorie finora esclusse dal decreto di storia. Grazie all'erogazione di fondi, ha dichiarato l'assessore regionale del lavoro Alessandra Zedda, si pone particolare attenzione sui lavoratori autonomi, soprattutto su quelli con contratti precari o con tipologia di lavoro intermittente. L'obiettivo è quello di tutelare il lavoro e le imprese affinché nessuno rimanga escluso. La domanda di indennità è scaricabile dal sito www.sardegnalavoro.it a partire dalle ore 10 del 21 gennaio fino a non oltre le 23.59 del giorno successivo. Gli aiuti economici saranno assegnati in base all'ordine cronologico di invio delle domande.